La seconda edizione di Protagonista di Te Stesso la Basilica di San Giovanni ha informato gli anziani presenti sulle finalità dell'iniziativa. Dal tabacco all'alcol alle dipendenze da farmaci, da gioco d'azzardo e da internet, tanti sono i rischi in cui incorre la terza età. In Italia ogni anno ci sono 80.000 morte a causa del fumo, di cui 30.000 per tumore ai polmoni, mentre l'alcol continua ad essere uno dei fattori di rischio più alti per gli anziani. Ma i disagi non sono soltanto fisici, ma soprattutto mentali, e gli anziani non ne sono immuni. Infatti, una delle dipendenze che maggiormente riguarda la terza età è quella da farmaci, spesso perché c'è poca informazione riguardo alle modalità di assunzione. Spesso essere anziani può degenerare nella solitudine e nella depressione, terreno fertile per far attecchire la dipendenza da gioco d'azzardo, rischio che al giorno d'oggi aumenta ancora di più con il gioco online, connesso al pericolo di compromettere non solo le proprie finanze, ma anche la qualità del proprio tempo. Anche la dipendenza da internet, infatti, interessa gli anziani ed è in costante aumento. L'incontro informativo ha dato vita a diversi spunti di riflessione, suscitando interesse e molti confronti. Grazie a tutti.